solo 6 minuti dai cazzo ma vi rendete conto è venuto qua per il caffè non per la corsa in macchina è gratis e pensa che vedi se mi schermo mettono i tempi lì e facciamo i selfie sui gokari se non è per lo caso non riesco in testa con un lato sei nozzolo non c'è il dove guarda eh ma ma di zompeccato ciao ciao bobi ragazzi un foglio a testa e compiliamo i moduli io non so che la giustina io non so che la giustina ciao bobi come la testa è andato qua va bene ciao 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 Sì, mi si deve vedere un po' il pezzo Più o meno è così Dan, guarda la mia come è regolata Cerca di capire com'è Guarda com'è, la mia è regolata bene Secondo me deve andare più a più in basso Guarda, secondo voi sono la mia perfetta Guardate Guarda 10 Guarda, guarda, guarda Guarda, 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 guarda Grazie a tutti. Daniele, 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 lui! Ciao! Che cazzo fai là? Quello là è là dietro Che cazzo fai là? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.